Presidente Correa, negli spogliatoi la squadra sta festeggiando perché è arrivata la salvezza in una partita che forse è stata l'emblema della stagione perché siete andati sotto 2-0, il pareggio al quarto ed ultimo minuto di recupero e poi nel supplementario è arrivata la vittoria. Sì, sì, è vero, ci ha fatto soffrire la squadra, ma dall'inizio del campionato che soffriamo. Purtroppo questa è la squadra nostra, poi esce, vede che è uscita la grinda che non hanno saputo dare prima. La doppietta di De Santis, gol di africani, c'erano assenze importanti, bene aver chiuso questa volta e non aver fatto altri turni play-out. Sì, sì, io in dieci anni di presidenza non avevo mai fatto play-out, l'ho detto alla squadra, è la prima volta che faccio play-out, quindi adesso siamo felici di festeggiare almeno. C'è la maglia di africani che proprio ha fatto il gol decisivo. È vero, io ci ho sempre creduto con Francesco e ha fatto un gol decisivo qui e un gol decisivo pure al campo di, puoi sempre, a Pescara, a Montesilvano. Con la Torres. Con la Torres, è stato bravissimo. Ora un po' di riposo, un po' di riflessione e poi si ripartirà. Speriamo, io penso che avevo già preannunciato che l'ultimo anno di presidenza ci saranno dei ragazzi giovani che mi sostituiranno, però sono felici di aver lasciato la squadra in promozione. Grazie. Grazie.